Sì, ho tagliato il mio panino prima di venire qua. Silenzio, 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 mancherebbe un po' di olio, un po' di aceto e balsami. Anche le noci, eh? Noci? Buona, eh? Funghi, le luci noci. No, aspetta che metti di fianco con il crudo. Funghi, hai fragole, piano. Eh, fragole dopo. Funghi, c'è il peyote, famoso fungo del Mexico. Un leggero panino piccolo, non ci sta neanche nell'inquadratura. Un po' piccolo. Una cosa da niente. Quei sigul. Quei sigul? Peccato che non sentite il profumino, ragazzi, ma qui l'affare si ingrossa. Ma c'è tutto il passione, cotto, sul gelato. C'è un po' di po' Mettete anche qui la pellicola, te, via, dentro. Panino imbottito con pellicola. A po' Se ci fosse qui la spelle, via, ammazza tutto. Ma vedo che avete sviluppato la coppia qui. La standa. La standa, scusa, scusa. Eh, vabbè, è una pubblicità occulta questa qui, eh. E' un po' fuori il formaggio, che io... Ah, non è tanto occulta, eh. Eh, vabbè, ma chi è che l'ha? Buono. No, poi vi penserò che questa roba qui la raccogliete tutta, eh. Eh. Sennò qui c'è la resta immediata. Ah, che ne frega. Biodegradabile in 1500 anni, che se ne frega. Sì, 15 secoli. Eh. Sì, guardate, ragazzi. Pietro. C'era, c'è una casinò? O Monte Carlo? Dove andate? Dago una bucata, dai. Roba da altri tempi. Ma l'insalata? Dago una bucata. No, bucata meno. Sembra il primo di 200. No, quando hanno rifatto l'Italia distrutta da guerra, uguale. Eh, ma puliti la bocca, perché tagliate un... Nooo. Gianni, riprenditi il panino. Dietro, con i panini così di 20-90 kg. Non è più bene. No, anche questa è piccola, sì. Devo dire che il consorzio ho. E' un po' sensato. Dagli una bucata anche a te, dai. Sì. Ah, devi ancora andare giù quello lì. Dotturato. C'è un po' di farina su, guardami. Eh. Fa niente, le stesse. E dopo, Macedonia compravole. Basta, ragazzi. Troppo forti, troppo forti. E tu mi ha preso il panino. I zuccarelli invece non si sporcano le mani, guardalo. no? Il sacchettino in mano. Non possiamo mica rimasugli, eh. Uh. Un po' di grana. Eh. Due fragolini di bosco. Una fragolina di bosco. Giudei. 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 Noi che le ha raccolte quelle fragolini. L'orto di King Kong. Oh, sì. Ma da dove vengono quelle fragole lì? Dall'orto di King Kong. Molto bella sta giornata. Sì, poi capogruppo mistica. Penso che sia il migliore. Migliore. Molto bravo però. Però marrotto. Marrotto. Noi. Sì. Sì. Sì.